I loro occhi si cercano, ma il loro sguardo è rovinoso. Cyanus, sparisci dalla mia vista! Non vi è potere che non possa profanare! Ti ho in pugno! Questa battaglia è noiosa. Permettetemi di rafficare la silenzio. Etene! Ho bisogno di te! Mostrati! Dove sei? Amore mio, non sparire mai più dalla mia vista! Non vi è potere che non possa profanare! Questa battaglia è noiosa. Permettetemi di ravvivare la silenzio. Questa battaglia è la verità � Non siete belli della grandezza. Inginocchiatevi davanti alla vostra regina. Ecco un piccolo assaggio del mio potere! Sirene, uscite dall'oscurità! Sfruttate il potere di queste antiche protezioni! Scuotete le catene che lo imprigionano! Che stelle ci sono? Azara sta tingendo al cuore di Azeroth! Sta usando le sue energie per il rituale! L'hai scoperto solo ora, prima Arcanistica! Un titolo davvero a seguito! Ora avete compreso, vero eroe! Tutto ciò che avete fatto era frutto della mia volontà! Quel goffo nano pensava che poteste salvare Azeroth potenziando il vostro piccolo cuore scintillante e il dono di un titano dormiente! Sì, il cuore di un titano era proprio ciò che serviva non per guarire il mondo ma per infrangere la prigione di un uomo! Che deliziosa ironia! Il re di diamante è diventato una pedina! Il rituale è quasi completo L'impero nero sorge e il mondo attende la sua vera regina Non ci saranno alcuna incoronazione quest'oggi! Talistra! Aiutami! Insieme possiamo trattenerla qui! Ora saprai cosa si prova a essere intrappolati, Azshara! Io sono Azshara! Sono destinata a regnare! Nessuna forza può tenermi qui! Campioni, avanti verso la vittoria! Fuori degli amanti! Frantumatevi! Sangue devoto, versato copiosamente sulla sabbia! La canzone delle profondità risuona per richiamarlo! Oh! Mi avete colto di sorpresa, d'accordo! Ma siete intrappolati qui anche voi con me! Questa può non essere la fine per ognuno di noi! Conosco i vostri sogni! La vostra benedizione potente! La simania con cui inseguite i vostri amici! Inginocchiatevi di fronte a me e vi conferirò un potere che va a dirvi una vostra immaginazione! Rifiutratevi! E se avete spazzato via dalle maree! Chiai è parto via dalle maree! Autore dell'attarica è importante Questa è una cosa semipante! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!